Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo assaggiamo in cui assaggerò le nuove patatine San Carlo al gusto salame e finocchietto selvatico. Questo qui è il gusto vincitore della sfida Crea il Gusto che fa San Carlo, è della terza edizione. Su questo canale c'è anche l'assaggio dei due gusti vincitori precedenti, quello della prima e della seconda edizione e se siete interessati vi lascio il link da cliccare nelle schede. Il pacchetto è questo, appunto patatine, gusto salame e finocchietto selvatico. Senza glutine, senza coloranti e senza conservanti direi di aprire e assaggiare ovviamente il pacchetto è come al solito mezzo vuoto, ma va bene. Queste sono le patatine, un po' di polverina ralcione sopra, più o meno sono proprio gialle le lele gialle. assaggiamo dal profumo non ci direbbe perché non hanno un profumo molto particolare diciamo così, però al sapore, all'assaggio, sono davvero tantissimo di salame subito e hanno proprio il retro gusto di finocchietto che ci sta veramente da dio. Me ne mangio un'altra perché sono buone. Davvero buonissime e consigliatissime, sono una cosa un po' particolare però assolutamente consigliate se volete provare qualche gusto un pochino strano con le vostre patatine. Detto questo io spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. In descrizione trovate link a tutti i miei social in cui seguirmi anche al di fuori dei video di YouTube. Se l'avete provate e magari avete qualcosa da dire in più lasciate un commento qui sotto. Vi leggerò davvero molto volentieri. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life! Ciao!